Siamo qua oggi per illustrarvi l'ultima creazione di XLVI Oprie del Vapore, una macchina caffè espresso professionale dal nome Steamhammer. Steamhammer è il frutto di anni di esperienze collezionate in giro per il mondo, di raccolta di informazioni e della continua voglia di migliorare un oggetto già di per sé bello. Tutto questo, associato alla passione per il design e per i materiali nobili, ci ha permesso di arrivare a questo risultato. Sicuramente vi chiederete perché Steamhammer. Ricordo ancora l'aneddoto quando in fase di progettazione, seduto ad un tavolo, si stava delineando le linee basi che Steamhammer avrebbe dovuto avere. Ricordo che all'unanimità emerse la voglia di creare un vapore importante, quasi esagerato nella lunghezza della lancia e della leva. Da qui il nome vapore martello, poi tradotto in inglese Steamhammer. Adesso scopriamo la più da vicino. Steamhammer è un insieme di tecnologie innovative e tradizionali. Per questo abbiamo optato per un sistema a scambiatore termosifonico rivisto e rivisitato. Molti credono che con l'avvento della tecnologia multiboiler lo scambiatore termosifonico sia ormai obsoleto. Noi invece crediamo fermamente che con la nostra rivisitazione sia ancora attuale e molto efficace. Prova ne sia il tipo di estrazione che siamo riusciti ad ottenere. Un'estrazione molto dolce ed eccellente su tutti i punti di vista. Principalmente la scelta di ridurre al minimo l'uso di materiali plastici trova risposta nella filosofia XLVY. Secondo noi la macchina da caffè oltre che tale è anche un oggetto ornamentale ed è l'anima del bar o del coffee shop. Da qui la scelta di utilizzare materiali belli ma anche solidi. Noi vogliamo che Steamhammer non diventi un ricordo di chi l'acquista ma vogliamo che sia una macchina che duri nel tempo. Per quanto riguarda il vapore abbiamo pensato ad un'erogazione progressiva del flusso con una lancia molto lunga per permettere all'utilizzatore di sbizzarrirsi con la creazione di cappuccini. Noi pensiamo che Steamhammer non sia una macchina adatta solo al mercato italiano. Per come è stata costruita, per gli accessori proposti, tanto per citarne uno, la tazza magra eversibile. La Steamhammer è adatta a un mercato internazionale ed innovativo. Penso che si dovrebbe scegliere Steamhammer perché è come un'elaborazione sartoriale, è un vestito cucito addosso al barista, l'erogazione progressiva del vapore, l'estrazione, gli accessori proposti e l'affidabilità la rendono una macchina di primissimo livello. Grazie per la visione!